Intensità, abbondanza e serenità, questo è il mood dell'allenamento pomeridiano dell'Avellino che si è ritrovato sul sintetico del Partenio Lombardi, ai ordini di Mr. Buccaro e del suo staff. Dopo la classica seduta a video in cui il trainer palermitano e il suo secondo Daniele Cinelli hanno sottolineato gli aspetti positivi e negativi della partita contro il Monterosi, la squadra è scesa in campo per sottoporsi ad un allenamento di scarico. Dopo la fase atletica il gruppo ha ripreso a lavorare col pallone concentrandosi sul piano tecnico e su quello tattico. Partitella a campo ridotto in chiusura per tutti o quasi dalla quale è emerso un'ottima intensità ed una buona concentrazione. Sembrano tutti sul pezzo e gli acciaccati parrebbero definitivamente recuperati. Sono rimasti a riposo solo pochi calciatori su tutti Nando Sforzini che dopo la squalifica di tre turni ha bisogno di recuperare gradualmente il ritmo gara. Vincenzo Pepe ha svolto invece un lavoro specifico sotto lo sguardo attento del preparatore La Porta così come Niccolò Dondoni e Filippo Capitanio, Out, Tommaso Carbonelli e Alessio Rizzo. I due baby calciatori si stanno ancora sottoponendo ad un ciclo terapico per smaltire i rispettivi malanni muscolari ma mentre l'utilizzo del primo per la trasferta di Castiadas dovrebbe essere cosa possibile Per il classe 99 catanese non sarà così l'infiammazione al ginocchio non accenna ad attenuarsi e il suo impiego resta un rebus di difficile soluzione. News di infermeria a parte, al partenio oltre al sole sono ritornati alcuni tifosi che, anche favoriti dal clima gradevole hanno potuto apprezzare un gruppo che durante gli allenamenti non si risparmia affatto e che, ripetiamo, sembra avere un unico obiettivo ovvero quello della rimonta.